Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di WeMage. L'argomento di oggi è un argomento un po' amaraccord, ovvero perché avere le Polaroid il giorno del matrimonio? Avere le Polaroid il giorno del matrimonio potrebbe sembrare un gioco per molti e forse anche una cosa futile. In realtà si tratta di un intrattenimento che si può fornire agli ospiti che può essere molto molto divertente. Innanzitutto, cosa sono le Polaroid? Le Polaroid sono in disuso ormai da diversi anni, ma negli anni 80 spopolavano. Erano le classiche cartucce che bisognava scassare per far uscire la fotografia, che in realtà vi dico un segreto, non serve a niente scassare. E ad oggi si stanno iniziando a riutilizzare perché la Fujifilm ha creato tante nuove tipologie di macchine fotografiche alla portata di tutti, sia come costo che anche come semplicità di funzionamento. Perché avere le Polaroid al giorno del proprio matrimonio? Come dicevo prima, le Polaroid possono essere un momento di intrattenimento, quindi si crea un angolino in cui gli sposi e gli invitati si possono divertire, chiamato Polaroid Corner. E in questo angolino si può creare un telario in legno con appese le Polaroid, oppure un guestbook in cui vengono scritte le dediche. Quali sono le modalità che più spesso ci vengono richieste con le Polaroid? Beh, innanzitutto il telaio in legno è una delle cose più utilizzate. Nel telaio vengono appese le Polaroid tramite dei fili e delle mollette, come se fossero degli stand di panni. E qui le Polaroid possono essere magari anche personalizzate, mettendo vicino un indelebile in cui si possa scrivere qualche dedica al di sotto. Oppure ci possono essere delle cornici di sughero, che vengono vendute in qualsiasi negozio di cancelleria, nel quale attraverso degli spilli si attaccano le Polaroid. Questo è un bel modo anche per poi avere qualcosa di fisico da portarsi a casa, quindi attaccare in cucina, in soggiorno, un quadretto con delle foto amatoriali, ma del proprio matrimonio. Anche in questo caso un bel penarello per le dediche ci sta sempre. Un altro caso è quello forse più classico ed è il guestbook, ovvero il libro delle dediche. Tanti sposi si lasciano fare le dediche per la lista nozze, quindi hanno già un guestbook, però le dediche che vengono scritte sono sicuramente molto meno studiate rispetto a quelle della lista nozze. Perché? Perché vengono corredate da delle fotografie Polaroid che solitamente sono scherzose e divertenti e sono delle dediche più leggere e sincere. Altro esempio di utilizzo è quello di avere le Polaroid su un cartoncino che gli invitati si porteranno a casa. Su questo cartoncino, che magari verrà personalizzato con la vostra grafica del matrimonio, potete anche mettere una calamita. Quando gli invitati tornano a casa possono attaccare sul frigorifero le Polaroid e avere un ricordo del matrimonio per molti molti anni. Il servizio delle Polaroid noi di WeMage l'abbiamo iniziato a proporre dopo il matrimonio mio di Francesca, nel quale avevamo le Polaroid e gli invitati si sono divertiti. Anche se è stato un po' un salasso perché gli invitati hanno utilizzato quasi tutte le Polaroid ed erano 200. E molte di queste sono nere perché i bambini che le hanno utilizzate non sapevano che bisognava aprire flash. Ma infatti da quel momento tutti i servizi Polaroid e Corner che abbiamo organizzato hanno sempre avuto delle linee guida da parte di noi fotografi, in modo che non venissero sprecate le fotografie inutilmente, perché hanno comunque un certo costo. Quali macchine Polaroid prendere? Innanzitutto si parla di Polaroid, ma spesso e volentieri non si tratta mai delle macchine fotografiche della marca Polaroid. Questo perché le Polaroid hanno un costo molto elevato, infatti si parla di 2,5 euro circa a scatto, mentre le Polaroid a cui mi riferisco sono le Fujifilm, le Fujifilm Instax, che sono delle macchine che negli anni Ottanta esistevano già e non venivano utilizzate, pensate perché avevano tanta qualità, so che sembra strano, ma avevano più qualità rispetto alle Polaroid, e quindi alle persone che amavano le Polaroid perché avevano quei colori un po' particolari e quella patina molto opacizzata, non amavano avere la qualità delle Instax. Ecco, le cose negli anni con il digitale sono cambiate e quindi le Polaroid vengono spesso utilizzate solamente dai veri amatori, mentre per eventi e altre cose vengono utilizzate le Instax. Quali Instax? Ci sono principalmente tre modelli. Ci sono le Instax Wide, che sono quelle che io vado ad utilizzare, sono le più grandi, sono quelle che sono state utilizzate da subito perché erano quelle, scusate il termine, dei venditori di rose, quindi spesso e volentieri ci si trovava a casa già delle Polaroid dopo una serata del sabato sera, e quel formato lì viene spesso utilizzato per questi servizi. Da qualche anno sono state commercializzate anche le Fuji Instax Mini, che sono delle macchinette fotografiche che hanno un costo ridotto, siamo sui 70€ se si comprano online, e le cartucce sono molto molto piccole, sono verticali e sono larghe qualche centimetro, mi sembra 4,5 cm. Ecco, io le sconsiglio, se non per un utilizzo personale, ma per il matrimonio è sempre meglio avere una Instax Wide. Da qualche tempo è stata creata anche la Instax Square, ovvero quadrata, il formato che ricorda un po' le Polaroid originali. Se vi piace e se dovete acquistarla da zero, potrebbe essere una buona soluzione, altrimenti sono molto più utilizzate sia a livello di macchine che anche a livello di formato di cartucce, le Instax Wide, quindi se avete il dubbio io prenderei le Instax Wide. Le Polaroid possono essere utilizzate anche come bomboniera. Mi è capitato a dei matrimoni in cui gli sposi si sono fatti le fotografie un po' con tutti gli invitati, o almeno con tutti quelli a cui dovevano consegnare delle bomboniere, e poi hanno regalato dei portafoto, quindi la bomboniera era componibile, bisognava trovare la propria Polaroid, tra tutte quelle messe nel telaio di legno che vi spiegavo prima, bisognava prendersi un portafoto e quindi crearsi da soli la propria bomboniera. È stata una cosa coinvolgente e molto interessante. È importante avere qualcuno che gestisca questo angolo Polaroid, che ovviamente se degli sposi ci prendono il servizio di Polaroid siamo noi stessi a gestirlo completamente, perché le Polaroid hanno un numero di cartucce che varia da 8 a 10 scatti, quindi ogni 10 scatti bisogna cambiare la cartuccia. E poi anche bisogna stare attenti al fatto che il flash va attivato o disattivato in base alle situazioni di luce. Quindi se c'è anche un invitato che capisce qualcosa di fotografia, o comunque una volta che si fanno un paio di scatti si vede come regisce la macchina fotografica, sarà molto più semplice e si butteranno sicuramente via molti meno scatti. Non si capisce subito se una Polaroid verrà fuori chiara, scura, mossa o sfocata, perché bisogna aspettare almeno 5 minuti. Dicevo prima che non bisogna più scassare le Polaroid. Questo gesto che era stato visto nei film negli anni 80 è stato copiato senza senso da un po' tutti quanti. In realtà quando si scassa una Polaroid minimamente si va un po' a rovinare, perché non si lascia emulsionare correttamente l'inchiostro sulla carta. Bene, spero che questo video vi abbia fatto venire voglia di utilizzare queste cartucce per proiettarvi direttamente negli anni 80. Se avete domande o qualsiasi cosa scrivete qua sotto e vi invito soprattutto a iscrivervi al canale in modo da non perdervi i prossimi video sul matrimonio. Ciao!